Buongiorno a tutti, sono Posto Ribendi, lavoro presso l'Abbari Movimento e da qui prendo il nome di Udino, in Fausto Movimento. Come base di qualità del mio drink, potete utilizzare la mania una volta che ha uscito la mania. Come secondo ingrediente, per miscelarlo, ho deciso di usare un yogurt naturale ed è un liquore che credo che si sposi bene con il sapore di mania. Per rendere più colorato il frisco il mio drink, ho deciso di usare un succo di frutta alla mista. E' del concentrato. Dopodiché, per rendere il drink comune frisco, ho realizzato dei cilindri di ghiaccio, con l'interno di un twist dell'arancia. All'interno del quale c'è un fuoco, nel quale vado a inserire il braccio di mania. Due minuti. Se vado a filtrare all'interno del pancello, fatti che seromatizzi il tutto. All'interno del quale c'è un cuore. All'interno del quale c'è un cuore. Grazie. 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 Grazie.